Dopo una mattinata commovente e piena di ricordi ed emozioni, la giornata dedicata all'allenatore Vincenzo Cosco si è spostata sul rettangolo verde del campo sportivo di Santa Croce, dove è stato disputato un triangolare tra l'Ururi, le vecchie glorie della Turris e la squadra ai figli di Vincenzo, tra le cui fila sono scesi in campo amici ed ex giocatori allenati dallo Special Wolf. È una giornata per ricordare il mister, ci siamo riuniti tutti e felice di essere partecipi a questa giornata. Con te tanti compagni del passato e del presente? Sì, tantissimi compagni e tanti allievi del mister e ha fatto veramente piacere che tutti quanti abbiano risposto in maniera positiva. Una parola per descrivere Vincenzo Cosco? Una grandissima persona che ha dato tanto ad ognuno di noi e lo va a rappresentare soprattutto la presenza di tutte queste persone. Una giornata in cui si è cercato di tramandare i valori che l'allenatore di Santa Croce ha in questi anni inculcato nella mente dei propri giocatori. Ci ha insegnato ad amare questo sport e spero che noi riusciremo a trasmettere almeno un minimo di quello che ha trasmesso noi ai ragazzi più giovani. Qui c'è il figlio che penso che sta avanzando sulle orme del padre in maniera forse anche migliore. Quindi speriamo che lui ci riesca a dare lo stesso contributo che ci ha dato il papà fino all'anno scorso. All'evento ha preso parte anche il consigliere regionale con delega allo sport Carmelo Parpiglia. Un uomo di sport, un grande allenatore, che dalla provincia è riuscito ad affermarsi e affermare i propri principi e le sue idee nel mondo del calcio e fuori dal calcio. Una giornata di sport e di festa che ha messo in evidenza le doti calcistiche del piccolo Luigi Cosco e che è culminata con la meritata vittoria ai rigori da parte della selezione i figli di Vincenzo che ha superato solo dal dischetto una battagliere combattiva Turris. L'appuntamento ora è per il prossimo 9 maggio quando ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dello Special Wolf.